di vedere che quelle persone vivono come degli animali ed è inaccettabile ma io faccio la televisione e faccio la denuncia faccio un appello al governatore della Puglia perché invece che guardare le trivelle in mare guardasse quello che c'è sulla terraferma che è una cosa del mondo ma non deve essere una guerra all'interno del PD questa non deve essere una guerra all'interno del PD chi se ne frega del governatore della Puglia e delle trivelle ma chi se ne frega delle trivelle ma ti prego non uso niente, sto chiamando in causa una istituzione ma no, tu sei acceccata dall'odio verso Emiliano perché è un nemico di Renzi ma non è che si vive dentro la stanza del PD questo è un danno vero ma io ho due minuti di tempo vorrei che parlasse tutti quanti quindi facciamo un po' d'ordine dammi una ricetta per questa gente ma dammela anche per gli italiani